Ciao a tutti e bentornati ancora in una volta su Indie Gameplay Italo, oggi un altro episodio su My Summer Car, ma non è ancora arrivato il momento di cominciare il rally perché c'è stata una patch e diciamo che per il rally non sono ancora pronto. Per il semplice fatto che il rally richiede del tempismo e anche complice il fatto che sono rimasto fermo per molto tempo, con questo gioco sono un po' arrugginito. Ma è uscita una patch l'altro giorno quindi ve la voglio far vedere, cioè più che altro ve ne voglio parlare mentre cazzeggio nel gioco. Io ringrazio anche quella persona che ha detto nei commenti che quando vede un video di My Summer Car nota che è di una qualità migliore, ovviamente non intendeva a livello grafico ma a livello di qualità dei contenuti. Quindi è vero, lo ammetto, abbasso la testa e dico è vero perché il gioco mi prende come pochi altri e quindi si nota l'interesse e la dedizione maggiore. Allora in pratica che cosa hanno aggiunto? È stato un piccolo fix di 60 MB che hanno permesso di aggiungere e ottimizzare alcune cose. Ad esempio si può colorare il muffler adesso, vedete che è diventata blu, che fa cagare ma va bene. Hanno cambiato i tasti, non si zooma più con la rotella ma con lo shift, col contro il sinistro scusate. Hanno tolto alcuni bulloni all'impianto frenante e questo è per quello che riguarda l'auto, la Satsuma. Quello che hanno cambiato poi nel resto della partita adesso lo andiamo a scoprire insieme, intanto ve ne parlerò. Ah no, prima di tutto ho aggiunto a livello grafico il, come si chiama il, vedete se lo vedo, l'HDR, ok non so cosa cambi, ok mi ha fatto lo schermo un pelino più, vediamo un po' la differenza, disattivo, vediamo cosa cambia, non lo so sapete. Sunshaft, bloom a carriere, attiva tutto, ah hanno aggiunto anche la walking head blob, cioè l'oscillazione della testa quando cammini, vedete che proviamo un po'. Mi sembra tutto un po' più sbiancato ma al contempo forse un po' meno fumettoso, vabbè, insomma proviamo. Io non prendo la Satsuma perché ho paura che mi lascia a piedi, però potremmo anche provare e vedere che cosa succede. Mentre vi parlo anche di quella, delle altre cose che hanno fatto. Più che altro vorrei essere sicuro che la batteria si carichi adesso. Sì, sembrerebbe di sì, quindi possiamo prendere questa, la macchina. E vi porto a vedere che cosa è stato migliorato. Mannaggia alla pupazza, devo ricordarmi di tirare l'aria. C'è un effetto strano qua, qualche glitch grafico. Mannaggia te. No, sicuramente il gioco, l'auto ha qualche problema di carburazione, credo. Bisogna uscire un po' decisi. E alla peppa. Allora, vi parlo, vi parlo anche della, di come funzionerà la rally. La rally dovremo fare una gara, una prova speciale e poi spostarci rapidamente nel parco chiuso dove l'auto resterà per una giornata, una notte. Quindi dovremo anche trovare da dormire. Quindi per quello sto temporeggiando. Chissà quando ve lo porterò il video. Ma vi parlo intanto di questa patch. La patch ha introdotto, allora, da dove cominciare? Hanno aggiunto dei pozzi. Quindi è possibile trovare questi pozzi e bere. Quindi, se avete sete, ormai non si è più spacciati perché non ci dava valida neanche la bevuttina da quelle pozze d'acqua come vediamo adesso lì. Ma possiamo bere adesso dei pozzi. Poi, altra cosa che è stata aggiunta. Alcuni cambiamenti alla mappa. Ho visto una strada nuova, una specie di torre con cui guardare i campi. Con le scale da salire, niente di spettacolare. Quello che vi sto portando a vedere è l'aggiunta che hanno fatto alla motoretta. Allora, la motoretta, da quanto ho visto, non si può più prendere in mano. Quindi bisognerà muoverla guidandola, insomma. Non la possiamo più prendere in braccio e caricarla sul van. Ecco, qua abbiamo perso un pezzo ma lo lascio lì dov'è perché se scendo poi mi si spegne la macchina. Io adesso spegnerei anche l'aria. Perché ormai l'auto è bella avviata. Questo bloom non mi fa impazzire perché mi dà questo effetto nebbia. Vabbè, hanno aggiunto appunto la possibilità poi di colorare la marmitta. E soprattutto, due cose importanti che sono state aggiunte, marginali ma importanti. Il fatto che il gioco adesso salva la posizione delle porte. Quindi quando lascerete una porta aperta al save successivo la troverete nuovamente aperta. E soprattutto un'altra cosa, i sacchi della spesa non esploderanno più al rientro in partita. Quindi quelli diventeranno, resteranno chiusi. Altra cosa che è stata aggiunta appunto, vi dicevo la motorietà, è un portapacchi. Che vi stavo appunto accennando prima. Il portapacchi porta uno o più oggetti fino a un massimo di 30 kg. Poi non so effettivamente come si faccia a misurare i 30 kg. Però questa è l'aggiunta. Non si può più prendere in mano però. L'altra cosa interessante che è stata aggiunta è anche il fatto che quando acquistiamo al negozio, il negozio ha delle quantità limitate. Non è che ogni giorno il commerciante rifornisce gli scaffali di tutte le bottiglie, di tutte le cose che abbiamo comprato. Ma bisognerà attendere, se non mi ricordo male, il mercoledì o il giovedì per avere il rifornimento del negozio. Quindi non potremo più fare delle megaproduzioni ma dovremo per forza attendere che lui rifornisca. Intanto il nostro socio è sempre là, credo. E un'altra cosa, questa è molto marginale, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere in video. Ecco, vedete, questa è una strada nuova che vi porta a quella torretta che vi dicevo. L'altra cosa è che se noi facciamo il furto, perché non so se sapete, non mi ricordo veramente se ve l'ho fatto vedere, il fatto che potete abbattere la vetrina di notte, entrare, attivare il distributore di benzina e fare benzina gratis. Ovviamente poi c'è un'altra possibilità che il negozio vi becchie e vi mandi la fattura a casa. Insomma, se voi romperete il vetro, il vetro non sarà intatto la mattina dopo, ma per qualche tempo, per qualche giorno, il buco sulla vetrina verrà tappato da delle assi di legno. Poi in alcuni casi ho visto anche che mandano un conto salatissimo a casa per pagare la vetrina. Quindi insomma, quello è una cosa in più. Un'altra cosa, quando la casa va a fuoco è stata aggiunta la possibilità di vedere una coltere di fumo, cioè una colonna di fumo già da lontanissimo, e quindi sapere che la casa sta andando a fuoco già con largo anticipo. Non avevo neanche lacciato la cintura. Va bene, pazienza. Scendiamo. Speriamo che non arrivi il nostro cugino adesso. Sono stati aggiunti dei nuovi rottami da portare qua al nostro amico del meccanico. I rottami, se li portate, vengono pagati bene. Ne sono stati aggiunti quattro e soprattutto è stata aggiunta la randomicità degli eventi di questi mezzi. Quindi non sono più nei punti prestabiliti che trovate sulla wiki del gioco, ma adesso li dovete cercare, cosa molto interessante, così come anche la borsa del tesoro. E adesso, vabbè, farò una cosa molto trash, però non riesco a resistere. Ghostbusters! Scusate, me l'avevo preparata prima, ma era troppo bella. Allora, la moto, se non ricordo male, non si può... Uh, si può prendere, attenzione, ho grande scoperta mia adesso. Non c'è il punto cliccabile, però l'ho raccolta. Ok, adesso vedete che la moto ha questo oggettino qui, questo portapacchi qua. Quindi potremmo, vediamo se funziona. Se noi sganciamo il Fire Extinguisher, lo dovremmo poter caricare qui. Non me lo fa. Allora, scusami, mettiti in piedi. Poi non so adesso effettivamente come funzioni, però... No, bruh. Chi lo sa? Chi lo sa? Sali? No? Si può? Scusi, eh. Perdoni? Ahahahah. No. E forse non funziona per questo affare qua, però vediamo. Vediamo, adesso io salgo sulla moto. Ok, entro in modalità di guida. Lo appoggio qua. Probabilmente questo qua è supportato semplicemente per... No, infatti. Per le borse della spesa e non di certo per un estintore perché pesa più magari di 30 kg. No, però adesso me l'ha posizionato. Quindi possiamo provare a vedere se questo funziona. Vediamo. Anche perché è 30 kg, non pesa un estintore, almeno quelli piccolini. Sì, tiene. Decisamente tiene. Quindi abbiamo messo, abbiamo provato la nuova cosa molto utile perché adesso possiamo portarci la spesa direttamente a casa. La moto è comunque più agevole in molti casi. Vabbè, io adesso qua non è che la posso mettere lì. Che altro dire? Posso vedere il log della... Vabbè, adesso da quanto ho capito il gioco supporta anche le frecce direzionali. Però non le ho configurate, però le supporta. In gioco se avete messo dei vostri MP3 all'interno del gioco avete il CD. Viene creato un CD apposta che lo potete caricare nell'autoradio. Quindi potete riprodurre la vostra musica a scelta. È stata aggiunta, ottimizzata al visuale per vedere internamente al motore. Quello che era, in pratica, quello che ho sempre ritenuto un glitch, ma in realtà è voluto. Ed è stato ottimizzato il fatto di poter guardare dentro il motore per... No, questo non è mio cugino che passa, ma è una macchina di sotto un camion, meglio. Vedete che qua brilla qualcosa, ma sono dei riflessi... Vabbè, comunque è stata ottimizzata la vista interna per poter... La leak cam per vedere che cosa non funziona all'interno. Quindi è un glitch adesso ancora più ottimizzato, se così si può dire. Un'altra cosa davvero molto simpatica è questa. È stato aggiunto, adesso io qua non salvo, torno al menu e ce ne torniamo in partita. Vi faccio vedere... Vabbè, perché comunque è un viaggio fatto senza senso, non voglio salvarlo. Adesso, due cose riguardo alla rally. Il rally è stato... I tempi della rally sono proporzionali alla velocità del vostro processore. Nel senso che, se il gioco rileva che il vostro processore non è una scheggia, non avete un pc veloce, i tempi risulteranno essere più alti. Quindi, avrete modo di essere più competitivi e il gioco vi facilita. Se avete un pc veloce, i tempi saranno ovviamente più bassi. Quello che invece potrete vedere il sabato e la domenica è in televisione, al momento però senza l'audio, potrete vedere il rally che si svolge sulle strade. E soprattutto, se vi metterete, come facevo sempre io, sulle strade durante la gara, le altre auto passeranno. Quindi questa è un'altra grande aggiunta che hanno fatto. Ci sono anche dei cambiamenti alla mappa, ma quello dovrei informarmi bene sulla wiki, su quali sono effettivamente le modifiche. E pare che hanno aggiunto anche la possibilità alla chiave di non funzionare in caso di montaggio sbagliato. Parlano di starter, però comunque hanno aggiunto una nuova possibilità di malfunzionamento dell'auto. E soprattutto, cosa importante, hanno diminuito il grado di usura iniziale dei pistoni e dell'albero a camme, che era veramente fastidioso all'inizio. Quindi, insomma, è stata fatta una patch di fix vari. Dopo l'ultima patch, che era stata a maggio, ad agosto, lo sviluppatore ha portato avanti ancora questo discorso. Quindi è molto, molto bravo. E un'altra cosa aggiunta, ecco che adesso mi vengono in mente una dietro l'altra, hanno aggiunto i, come si chiamano, le tabelle, diciamo, degli orari del pullman. Quindi potete prendere con l'orologio e leggere e il pullman, diciamo, arriva a quell'ora lì. Quindi è davvero molto interessante questa cosa, perché comunque diventa sempre più preciso. Io direi che è tutto, se non l'ultimissima cosa. Se mettete all'interno della casa, ma non funzionava così prima, comunque a me sembra più che normale. Se io prendo questo, lo metto in casa, oppure accendo il barbecue con cui io cuocio i pesci e lo metto in casa, la casa prende fuoco, insomma. Quindi la casa brucia e quindi se la metto in casa scappo e vado dietro agli alberi e vedo una colonna di fumo altissima. Queste sono le patch, la patch di agosto di My Summer Car. Io spero sempre, comunque in autunno magari, o breve, una patch che aggiunghi, aggiunghi, fantozzi, che aggiunga dei nuovi contenuti ancora più interessanti. Anche se in realtà la storia sarebbe bella che è finita, però secondo me questo gioco, essendo unico nel suo genere, mi manca ancora qualcosina. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova patch, di questi nuovi ultimi fix, questi aggiornamenti a My Summer Car. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao! Ciao ciao!